Solamente roba al destra Comunicazione della regione rossa, è in gramma luminoso, mi manca solo un... un... un gramma esotico È in gramma esotico! E porco dio, allora si droppa tutto! Allora si droppa tutto! Una bella raga! Siamo qui oggi perché è martedì, si è riavviato tutto, c'è riavvio settimanale, ci sono delle pietre migliari in più da completare C'era il Focolai su Nessus che aveva completato, era di completare 5 eventi in modalità eroica o comunque 6 o 7 in normale Poi vabbè, c'è il costo della notte, chiamate alle armi e tutto E niente, so solo che fare 5-6 eventi, mi ha droppato due leggendarie, due esotiche e un engramma luminoso Quindi adesso andiamo a spaccare tutto perché si deve salire di luce Allora, cominciamo con l'engramma luminoso che tanto so già che non mi darà un cazzo Allora... Invece mi ha dato un lemot! Invece mi ha dato un lemot! Quale, 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 quale Guarda che te lo metto Oggi l'abbia giornata fortunata Oggi l'abbia giornata fortunata Poi Ok Allora andiamo a decifrare gli engrammi leggendari prima di tutto, ok? Allora Boh, non so quanto mi ha dato, vabbè Oh, mi ha dato petto e testa Allora, Turbo Non lo caccia Ma se lo caccia Ma se lo caccia Vola tutto Spacco tutto Cazzo non me l'ha cacciato Il primo non me l'ha cacciato Nooo Porca E non mi ha fatto neanche salire Ah, invece ho stimato due di luce in più Buono Poi Turbo Io lo sai bene cosa cerco Circo l'armettina quella lì Di Osiride Che è Sì Lala Vai Adesso non me lo Non lo posso trovare mo Prima me lo segnava Ma un po' il tarocco eh quella cosa Secondo me gira Ogni tot Minuti cambiano le ricompense che ci puoi trovare dentro Oh, io provo a aspettare una decina di minuti Vedere magari se Se dopo mi cambia ancora Oh Turbo, non lo caccia l'esotico però Perché è un gioco di merda Non lo può cacciare la Dallenglamma Legendare Ma se lo caccia Ma se lo caccia vai Me l'ha cacciato Me l'ha cacciato Me l'ha cacciato di nuovo No, che cazzo Che cazzo La testa E' quella decenziale Bella per me Bella per me Mi ha dato la testa Turbo A 2,91 me l'ha data Molto Aspetta che guardi intanto quello esotico Se si aggiorna Come cazzo eh Si si aggiorna Vedi ogni tot Cambia il drop Che puoi trovarci dentro Ecco come funzionano gli esotici No Porca Adesso No che lo so Basta Oggi caccia esotici Come fosse panna la domenica Lo posso trovare Turbo Lo posso trovare Posso trovare Quello è la bobina di Willer Allora Turbo Non li caccio Non li... Perché non li caccio Non li caccio Ma se li caccio Spacco tutto Non me l'ha cacciato Mi ha cacciato Duraluce Che coglioni Porco Dio Ma com'è il Duraluce Dai Ma che palle A quanto Eh D'84 Ce l'avevo già D'84 Sì Sì Sto pezzo saltiamo Corriamo dritti Via Era un salto della fede questo ma Ma che cazzo Nooo Dai ma spawnano sempre subito ste nerd Convinto 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 Spawno Minchia La cazzata Voi prendete questi Sì Vai vado a prendere collina Consiglio su come abbattere uno scudo energetico Lavoro Nooo Mi sono suicidato Guardiano a terra No vabbè Hai preso sopra Mi ci credo Ragazzi mi guardo Guardi che hanno a terra No Eh niente Voglio 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 Vabbè me lo ti ha reanimato Vai l'ucciso 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 Morto Please rega rianimate mi voglio troppo Scusate Dai rianimate mi animate Anche a me Dai sono alla cassa io dai Tu vuoi Ah non sei tutti morti Ah Non ci credo Mi prema Spacchetto gli ingrammi questi qua luminosi Perché sei già Eh niente mi ha dato un dono di piccolo di polvere luminosa Mi serve un cazzo E poi vabbè altre cose Fermi tutti Zavala E' tua Non lo caccio Non me lo cinca L'esotico non answer Dall'ingramma Onn. Alla missione lo caccia! A me me l'ha dato Gade! Me l'ha cacciato! Borealis! Borealis però me l'ha cacciato! Piovono esotici dal cielo! Allora Shaxx mi ha dato un ingramma del crogiolo a 2,89 non me lo caccia l'esotico ma se lo caccia! Ma se lo caccia! Ma se lo caccia! E' tua! No però me l'ha troppato due cose è bello! In più l'ho fatto salire di grado e me l'ha dato un altro regà! Allora non lo caccia! Ma se lo caccia! Non me l'ha cacciato! Vabbè fa niente dai! Rastray noi dobbiamo rifare tutto questo con il secondo peggio? No no col cazzo mi sono tutti i coglioni. Me lo caccia? 2,94 le gambe! Poi torace applica 2,91 e si vola 2,90 turbo! BAM! BAM! Guarda che a 2,90 uno ha fatto cioè si fa il cala il cala in nord a 2,90 e già al 2,90 lo può fare tranquillamente. Sì? Resta sulla terra se vuoi meno complicazioni. Boom! 2,91 di luce e si vola e si vola cazzo e si vola e si vola se vi è piaciuto il video lasciate un like altrimenti andate a fare in culo e ci vediamo al prossimo video bella! Ciao! 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 Grazie a tutti.